perché la gestione delle relazioni con gli stakeholder influenza sia l'efficacia che l'efficienza nei progetti perché gli stakeholder sono centrali in tutti i progetti visto che ogni progetto è fatto da stakeholder per altri stakeholder per stakeholder intendiamo delle persone oppure dei gruppi di persone oppure delle organizzazioni che abbiano qualche interesse nel progetto oppure che lo possono influenzare oppure che possano essere influenzati o che possono addirittura ritenerne di essere influenzati e diciamo gli stakeholder hanno questo doppio ruolo da una parte di generatore di complessità perché come sappiamo le persone sono i sistemi più complessi che esistono quindi dovremmo cercare di identificarli analizzare in modo opportuno quelle che sono le loro esigenze e le loro aspettative dall'altra però sono i generatori di valore perché è grazie alle persone che il valore viene creato nei progetti incorporato nei progetti e poi scambiato con gli altri stakeholder allora perché efficacia perché in effetti la soddisfazione degli stakeholder è il fattore critico di successo principale di tutti i progetti e questa soddisfazione riguarda sia i requisiti che spesso sono espressi o formalizzati in un capitolato in uno stato di un tuo volco qualcosa che gli assomiglia ma anche le aspettative che invece non sempre lo sono per cui bisogna fare un accurato lavoro con non solo l'identificazione degli stakeholder ma anche di analisi di quelli che sono i requisiti delle aspettative di armonizzazione fra i due di conciliazione di risoluzione eventuali conflitti e se proprio diciamo invece qualche conflitto esiste bisogna dare delle concordare delle priorità la soddisfazione degli stakeholder ci determina il cosiddetto valore percepito che sopra il valore generato caratterizzato del deliverable del nostro progetto ci dice se un progetto è effettivamente stato di soddisfazione per chi l'ha commissionato o chi diciamo ci ha investito sopra benissimo però stakeholder sono anche quelli che fanno le cose e quindi anche quelli che il team e il project manager che realizzano il progetto in questo caso le loro relazioni concorrono a partire dalle competenze naturalmente per passare in momenti di consapevolezza di condivisione proprio la magica nel project management in particolare per quanto riguarda gli aspetti di team e finalmente a questo punto poter iniziare la vera e propria cooperazione efficace questo percorso di efficienza è accompagnato da una parte dagli aspetti di leadership e di teaming e dall'altra dagli aspetti di comunicazione efficace che saranno quelli di cui parleremo nella prossima pillola grazie a tutte e a tutti un cordiale saluto a nome dell'istituto italiano di project management e da parte dell'ingegner massimo pirozzi a presto